buonasera buonasera a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video allora avrete sicuramente tutti quanti letto in giornata la notizia che Gabriele Gravina attuale presidente della Federcaccia italiana è stato nominato vice presidente della UEFA sì avete capito bene Gabriele Gravina nominato vice presidente della UEFA lo stesso Gravina che è il primo responsabile del tracollo del calcio italiano che sta andando a rotoli e lo sappiamo lo stesso Gravina che dopo che l'Italia non sia qualificata per la seconda volta consecutiva al mondiale avrebbe dovuto dare dimissioni cosa che fece Tavecchio quando l'Italia ha perso lo spareggio con la non si è qualificata mondiale per la seconda volta consecutiva e Gravina se ne sta bello lì al suo posto perché tanto Gravina a Gravina casomai ce ne fosse ancora bisogno del calcio italiano ne ne frega un cazzo l'unico scopo di Gravina è far la guerra alla Juventus però puntualmente la preta nel buco del culo perché il consiglio di stato ha respinto il ricorso di Gravina e della FGC ricordate per il caso là che adesso il 19 aprile alla Juventus verranno dati 15 punti di consigli che si erano tolti quindi lì Gravina l'ha preso nel culo un'altra volta ma chiaramente Gravina ripeto è talmente uomo di merda che dimissioni non accoraggi dagli anche perché un presidente se ha le palle sotto dopo che tu fai un ricorso il consiglio di stato e il consiglio di stato te lo rigetta tu devi dare subito le dimissioni perché hai perso in partenza però lui va avanti e ducce in fondo ci aggina sulla torta nominato vice presidente della UEFA perché lui insieme a quell'altro bastardo di Ceferin hanno come unico scopo quello di far guerra alla Juventus ma tanto lo ripeto anche Ceferin lo prenderà in quel posto anche Ceferin lo prenderà nel buco del culo tempo al tempo tempo al tempo tanto lo sappiamo no? il prossimo anno comincerà la Superlega e quindi la Juventus ufficialmente uscirà dalla UEFA grazie Dio grazie finalmente e poi c'è in ballo una notizia pazzesca che riguarda la Juventus non è notizia di mercato però prima di darvela devo chiedere il permesso a mio amico che mi ha fatto avere questa notizia oggi e quindi prima di darvela devo aspettare che lui mi dia il consenso perché è una cosa che ancora nessuno sa però è una cosa che la Juventus sta cercando di fare e forse io spero spero che riusciva a fare questa cosa perché sarebbe veramente la Superlega e questa cosa che sto dicendo sarebbe la Ceggia sulla torta e sarebbe la vendetta più grande che può fare la Juventus al calcio italiano però ripeto prima di dirvela devo chiedere a questo nemico se possa appunto darla e dirla sul canale ok? comunque detto questo ragazzi io vi saluto vi auguro una buona serata e niente Gabriele Gravina nominato vice presidente della UEFA è proprio il detto che i coglioni vanno sempre in coppia ciao ragazzi e buona serata